segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te mi fate vedere prima pagina della ragione di oggi perché c'è un articolo quello principale forse arriverà che riguarda il mess e anche sul mess deve rispondere giorgia meloni allora tu hai scritto un articolo messi in scena abbastanza chiaro come concetto che vuol dire a meccanismo di stabilità è già stato ratificato questo è solamente la riforma verrà ratificata la riforma e verrà ratificata col governo che dirà però non intendiamo utilizzarlo anch'io sono favorevole al pronto soccorso tendenzialmente non vorrei utilizzare verrà ratificato foti vediamo imparare che sia un compito del parlamento certo ma voi siete parlamentari certo però dato che lei mi dice se viene ratificato io gli ho dato la risposta sarà il parlamento certo questa è l'ultima trovata retorica quando non si può rispondere se ne occupa il parlamento non è che se ne occupa il parlamento è la legge che prevede che lo faccia il parlamento certo le faccio un loroscopo lei vota a favore della ratifica del mess vabbè poi ci ritroviamo vedremo sul oscuro va bene poi ci ritroviamo così verificheremo buongiorno milta buongiorno allora